G.G. Vianello e gli intoccabili che ci stanno accompagnando in queste tre giorni. Prima di passare al prossimo ospite ne approfitto per chiedere a Jessica, che qui in studio con noi, cosa pensa anche del lavoro che sta portando avanti Luisa Impastato contro la mafia. Jessica. Io sono veramente tanto di cappello, è un grandissimo lavoro quello che stanno facendo, poi l'ha detto anche lei, non un gran team di donne, quindi adesso non per fare differenze, però io forse sono un po' di parte, quando sono le donne a coalizzarsi e a creare qualche cosa, di solito riesce sempre molto bene. Siete due esempi vivi, forti, di come si possa andare avanti e portare avanti una lotta contro tutto e contro tutti, quindi grazie davvero sia a te che a lei. Passiamo ora a un ospite che in collegamento ci parlerà di innovazione. Abbiamo in collegamento Andrew McCarthy, buon pomeriggio. Grazie per l'invito, grazie e buon pomeriggio a tutti. Professore, lei ci parla insomma dal Meet, è in collegamento. Ora ha scritto un libro che parla di innovazione, di capitalismo, di tecnologia. Ci può dire la sua visione attuale, il mondo che stiamo vivendo, in questo mix spaventoso tra innovazione, tecnologia, capitalismo. Secondo lei, qual è il futuro che ci aspetta? Credo che il futuro che ci aspetta sia migliore, non un futuro perfetto è quello che ci aspetta, non dico che il futuro per noi sia una garanzia al 100%, che sia migliore, però io credo che abbiamo degli strumenti talmente potenti, delle tecnologie talmente incredibili, una cultura dell'innovazione e del business che ci permetteranno di fare qualcosa di importantissimo. Quello che accade è che finalmente siamo in grado, simultaneamente, di permettere all'umanità di avere più cura delle persone nel mondo e al contempo di avere più cura per il pianeta su cui viviamo, quindi della nostra terra. Noi pensavamo di dover scegliere tra queste due cose, quindi o curarci di più delle persone o curarci di più del pianeta Terra, ma non avere entrambe le cose. Ma io credo che questo non sia vero, questo trade-off è falso, questo out-out, perché abbiamo visto che possiamo migliorare l'umanità, ma anche avere una maggior cura del pianeta su cui viviamo, questo lo abbiamo visto. Nel suo libro è come se lei salvasse un po' l'opera delle imprese. Anche ieri parlavamo, sempre grazie ad Egea, con una sua collega scrittrice, della responsabilità sociale d'impresa. Quindi lei quasi elogia un po' il lavoro delle imprese, però dice che i governi e i cittadini dovrebbero in realtà far di più. Sì, esattamente. E credo che dobbiamo capire che possiamo fidarci delle imprese, ma su certe cose chiaramente non dobbiamo fidarci delle aziende. Cioè, ad esempio, possiamo fidarci del fatto che le aziende vogliono ridurre i propri costi, perché vogliono aumentare i profitti, questa è una cosa palese. D'altra parte, chiaramente le risorse costano, quindi le aziende devono avere tutti gli incentivi per poter spendere meno nei metalli, nei fertilizzanti, nelle risorse, nell'energia, in modo da usarne meno. Questo sarebbe fantastico, perché rappresenterebbe una maggior cura per il pianeta. Però non dobbiamo fidarci del fatto che le aziende possano decidere spontaneamente di inquinare meno o di difendere gli ecosistemi, di lasciare in pace gli animali, perché le aziende non lo faranno mai spontaneamente. Per questo abbiamo bisogno di governi reattivi e di persone che chiedano queste cose, quindi di smettere di dare la caccia alle balene nel mondo, ad esempio. Adesso questo sta succedendo, infatti la popolazione delle balene sta crescendo di nuovo, però dobbiamo avere chiaro di cosa possiamo avere, su di cosa possiamo contare e su di cosa non possiamo contare da parte dell'azienda. In questo modo il nostro progresso sarà più efficace e veloce. Lei pensa che la condizione attuale sia quindi migliore rispetto a quella del passato o peggiore? Con questa invasione della tecnologia, anche se lei la racconta in tutte le sue sfaccettature, e con i vari impatti positivi, pensa che la condizione attuale sia migliore o peggiore di quella passata? Bellissima domanda. Ho un'opinione molto forte in questo senso e una risposta molto chiara, perché le cose adesso sono molto migliori del passato. E questo lo intendo in molti modi diversi, perché per esempio l'aspettativa di vita media è molto più lunga del passato, molte meno madri e figli muoiono al momento della nascita, perché chiaramente ce n'erano tantissimi nel passato, e anche la salute è molto migliore, le persone hanno una vita più lunga, anche l'alimentazione è molto migliore rispetto al passato, e infine abbiamo imparato ad inquinare meno il nostro mondo. Adesso voglio essere chiaro, il surriscaldamento globale è causato dai gas serra, ed è un problema reale, ed è un problema negativo, non possiamo star fermi e non far nulla. Però noi sappiamo quali sono i passi da fare, sappiamo quali sono le politiche, se vogliamo fermare il surriscaldamento globale possiamo farlo, lo faremo, dovremo ridurre l'inquinamento atmosferico nel tempo. Adesso, ad esempio, però la qualità dell'aria in America e in Italia è migliore rispetto a 20 anni fa, 15 anni fa, quindi adesso sappiamo quali sono i passi da fare per avere più cura dell'ambiente e delle persone. Chiaramente non stiamo facendo tutto, tutto insieme o abbastanza velocemente, però sono sicuro che col tempo le cose miglioreranno. Grazie, un'ultima domanda. Lei pensa che questa condizione pandemica, questa pandemia, abbia aumentato la consapevolezza delle persone rispetto all'impatto ambientale? Perché inizialmente si pensava che potesse essere così. Qui in Italia quantomeno siamo in una fase di ripartenza e sembra quasi si sia tornati alla normalità in termini di consapevolezza. Mi dice il suo pensiero in merito? È una domanda difficile perché le pandemie non sono delle buone notizie per gli ottimisti. È un periodo davvero difficile quello che stiamo vivendo adesso, ma credo che una cosa che possa farci più consapevoli è proprio questa situazione, cioè stiamo vedendo una nuova relazione con la natura, con il nostro pianeta. Quindi se vogliamo vivere in modo più sano, non dobbiamo essere contro il pianeta, ma dobbiamo avere più cura del nostro ambiente, del nostro pianeta. Io la ringrazio tanto per essere stato qui con noi e invito tutti a leggere More From Less e ringrazio anche Gea per averla portata qui con noi. Grazie mille. Grazie mille. Thank you. Grazie mille.